ecco come fare a caricare un rinowash innanzitutto rinowash è formato da tre elementi il motore il diffusore si mette sopra e l'ultimo che sarebbe il coperchio quello là che copre tutto e non far cadere le gocce di liquidi noi praticamente utilizziamo all'interno del rinowash dell'acqua fisiologica di solito si usa metà metà bottiglietta per volta si gira e si mette dentro al motorino qua ok una volta messa dentro il motorino si prende il diffusore si mette sopra e si aggancia poi si prende il coperchio che è la parte che serve anche per non far uscire il liquido quando è in moto il rinowash e si attacca e si schiaccia poi si schiaccia sotto praticamente facendo in maniera tale che questa guarnizione aderisca al coperchio ok così è il rinowash è carico adesso andrà messo vicino al motorino si attacca la la cosa di plastica qua che il piccolo compressore ed è pronto ad essere utilizzato semplice ed efficace grazie a tutti